Prodo, quella ragazza che ha fatto quell'orgia su Aperugia, com'è che si chiama? Quella che ha fatto quell'orgia. Che l'orgia che ha fatto l'orgia? La una che hanno fatto l'orgia, hanno ecciso una persona, hanno ecciso una persona, mentre facevano... Ah, l'inchiesta, la famosa indagine. Questa Meredith, adesso per i media e per il popolo della sua, americano, che c'hanno i soldi, i genitori. Ma Meredith, la ragazza morta. Allora, con l'altro, come si chiama? Amanda, no. Amanda, eh, Amanda Lir. Questa Amanda Lir, adesso per i media, fra poco, ha fatto un'orgia o no? Chissi, insomma, che la gente fosse nascostata. Vabbè, pare che facessero dei festini. Eh, me ne prego io. Allora, che la droga, eccetera, eccetera. Avesse il Cis, non si sa chi è, stanno mo' tra poco, questa ragazza diventerà Santa Maria Corretti. No, fra i media diventerà Santa Maria Corretti. Però ha fatto un'orgia, non si sa chi ha ciso un'orgia. Fra un po' farà un film. Ecco, farà il film, gli farà i libri, scriverà, e voi comprete le libri. E questo, per concludere, è il mondo di oggi. Chi uccide sta... Basta che se ne parla o del bene o del male, basta che se ne parla. E va sempre avanti. O bene o male. Perle di saggezza. Trovo a parlare però del bene, non del male. Lo male no, non ne prego. Però ti voglio dire che questa ragazza, a forza di sentire queste notizie, ogni volta in televisione, un po' piccola cosa che se parla di sta cosa... Ma scusa, la tua colpevole, tu come fai a dire che è colpevole se siamo ancora al... A sentire la sentenza di... In ogni caso, come dice, essendo comunque indagato. Io ti sto dicendo, io parto da un principio. Tu hai fatto l'orgica la sera là, ti piace la cocaina, ti fatti le stessità, poi c'è 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 c'è, pure capito come verginella. Ma chi cazzo le vuol contare in sé, secondo me, lascia i perdici, lei sarà colpevole con la sua coscienza, sono problemi, io la caccerei, anzi, io dalle carceri direi guarda te ne puoi andare, perché lei le otterrà dopo, però che dopo la gente addirittura volesse fare i film, i film, ma di che cosa, i libri, che cosa vuoi insegnare tu, come si fanno le orge ai nostri giovani, questi devi insegnare, andiamo avanti. Va bene, allora, linea alla regia, torniamo fra pochissimo.